Non si tratta né di complottismo, né di no-vax, né di si-vax, né di privato, fatevi togliere le etichette da dosso, toglietevi le etichette da dosso, non vi fate chiamare in nessun modo, reagite, volete reagire, dobbiamo reagire. Io sono no-vax, no, sono per la vita, è diverso, è molto diverso, sono per la vita, non sono un oggetto di sperimentazione, perché per loro siamo corpi, io sono persona, siamo persone.